L'economia di quest'anno è dominata dall'esplosione dei prezzi di beni e servizi. Tra le conseguenze più immediate c'è la costante riduzione del potere d'acquisto da parte delle persone, alle prese con un'immobilità salariale che rischia di comprometterne il futuro. E anche se secondo gli ultimi dati Istat i prezzi al consumo del mese di gennaio 2023 mostrano un'inflazione in calo rispetto a quella del mese precedente, in realtà nel 2022 i prezzi al consumo sono cresciuti di media dell'8%. I cittadini sono quindi costretti a scegliere beni più convenienti per evitare di erodere i propri risparmi. Le aziende invece sono alla ricerca di soluzioni per produrre a costi meno elevati per non perdere le quote di mercato, dato che si aspettano che l'inflazione resti a livelli record almeno per un altro anno, secondo un'indagine della Banca d'Italia. E il costo del carburante e quello dell'elettricità vengono indicati come i tasti dolenti di questa crisi, non solo dalle aziende. In questo scenario alcune imprese italiane, da nord a sud, per aiutare i dipendenti hanno deciso di elargire dei bonus speciali, delle mensilità in più oppure dei premi in busta paga contro il caro vita, oppure sono riuscite a non aumentare i prezzi del prodotto finale. Resta da chiedersi come le aziende e l'economia possano continuare a crescere se questa situazione durerà a lungo. Secondo le previsioni della Commissione europea, infatti, è molto probabile che in Italia nel 2023 la spesa per i consumi ristagni, per poi riprendere a crescere nel 2024.